Più sicurezza per i pedoni lungo la strada statale 34 del Lago Maggiore, nell'abitato di Giffa. Saranno messi in sicurezza 5 attraversamenti pedonali, con la posa di illuminazione e dell'idonea segnalazione. Verrà anche installato un semaforo a chiamata all'altezza di farmacia e posta. Questo andrà a sommarsi alle telecamere per il controllo delle targhe, che sono già state posate in attesa dell'autovelox. E anche su quest'ultimo punto siamo in dirittura d'arrivo, spiega il sindaco Matteo Lanino. Un deterrente dunque all'annoso problema della forte velocità con la quale molti veicoli percorrono quel tratto. Da segnalare che già le telecamere per il controllo delle targhe inseriscono le auto che non rispettano i limiti in una blacklist a disposizione delle forze dell'ordine. I lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali partiranno all'inizio del prossimo anno e costeranno circa 35.000 euro attraverso un finanziamento dell'Unione Lago Maggiore. Restando sul lungo lago Ghiffese, a breve anche alla realizzazione del secondo lotto di lavori sulla Darsena Bay, di fronte alla chiesa di Santa Croce, attraverso il quale sarà completata la parte superiore della struttura, dove verrà ricavata un'area verde. Sarà pronta per la stagione turistica estiva 2018, quell'area, un tempo privata, potrà così per la prima volta essere aperta al pubblico.